Io faccio due considerazioni, una considerazione economica e una considerazione, diciamo, culturale di carattere generale, quella economica. Premesso che chi parla non è un consumatore né di tabacco tradizionale né di sigarette elettroniche, quindi non è che parli prodomomea. Insomma, qualche anno fa, per una serie di ragioni, perché il prodotto era nuovo, perché il prodotto incuriosiva, perché era un buon prodotto, perché era di moda, per il tentativo dei fumatori di uscire dal tabacco e cercare delle soluzioni meno dannose, la sigaretta elettronica era partita nel nostro paese in modo lanciatissimo. Ognuno ha in mente un mercato vibrante, punti vendita fisici, la cosa cresceva. Parte l'abbastonatura fiscale che non è mai finita, diciamo, e si è realizzato quello che Reagan raccontava alle sue famose tre frasi contro gli statalisti, contro i tassatori. Se qualcosa si muove, tassalo, se si muove ancora, regolamentalo, se non si muove più, sussidialo. Ecco, non siamo ancora alla terza fase, ma l'obiettivo è stato quello. Io lo trovo surreale, surreale dal punto di vista economico, si è cercato di colpire alle gambe un mercato vibrante, di colpire le libertà di consumatori e imprese, mi pare un errore complessivo. Seconda considerazione è quella di carattere generale che vale per tutto, vale per le sigarette elettroniche, vale per il tabacco tradizionale, vale per ogni tipo di dipendenza, lo spiegava bene il professor Cenotto. Ma che Stato vogliamo? Cioè qua abbiamo uno Stato che esercita un'azione fiscale devastante, ha bloccato la pubblicità perché ci considera tutti i minorenni e minorati, tutti i ragazzini che altrimenti, no, la pubblicità non si può fare, non si può fare. Campagne di criminalizzazione nei confronti degli stili di vita ritenuti non adeguati dal Ministro della Salute Proteggore. Tutto questo è pericoloso.